Ciao a tutti ben ritrovati sul mio canale, sono DJ Peck, quest'oggi torniamo a parlare di calcio, ma ne parliamo in maniera un po' particolare, nel senso che nel mio ultimo video dove parlavo di calcio, giornalisti e giornalai, abbiamo fatto una promessa e vediamo di mantenerla. Questa rubrica, tra virgolette, la voglio chiamare Amarcord, o per non dimenticare, perché che succede ragazzi? Che qua sono tutti elementarsi a dar contro a Juve, ma sono tutti un attimino di memoria corta. Perché dico questo? Perché i più giovani di voi non se lo ricordano sicuramente, ma essendo un po' più grandino, mi sto avvicinando al mezzo secolo di vita, ne ho viste tante riguardanti un po' tutte le squadre di cose non troppo chiare, diciamo così. Voglio fare questa rubrica appunto esaminando alcuni casi che sono venuti fuori alcuni scandali riguardanti varie squadre di Serie A che hanno lasciato un po' d'amore in bocca e non sono state molto chiare e anche per far vedere che uno, non tutti, sono puliti come sostengono di essere. In tanti casi ci sono state due pese e due misure e questa cosa non è assolutamente bella. E comunque poi lascio a voi giudicare quello che ho da dirvi. Voglio cominciare questa serie con un episodio datato 1990. Lotta scudetto serratissima, piccola premessa, all'epoca c'erano i due punti per vittoria e non tre e le squadre in campionato erano meno, mi sembra che ancora erano 16 squadre il campionato italiano. Comunque lotta serratissima fra il Milan di Sacchi, il Milan stellare di Sacchi e il Napoli di Maradona, Careca e soprattutto Alemão e Carmando, il massaggiatore che poi è l'amico di Maradona che dopo è stato chiamato anche il nazionale argentina, tante altre cose ma questo non ci interessa. Ci interessa sapere che in quel campionato sono arrivati alla quarta ultima giornata con il Milan a più uno sul Napoli. Il Milan giocava in quel di Bologna e il Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Le partite, si sa che visto il finale di stagione, partite importanti, insomma tiratissime, entrambe sono sullo 0-0, fino a quando, al 75esimo, mezz'ora della ripresa, a Bergamo succede un fattaccio. Dalla tribuna, anzi dalla curva, viene tirata una monetina da 100 lire che colpisce in testa Alemão, il brasiliano del Napoli. Lì per lì sembra che non abbia niente, in realtà poi arriva di corsa il massaggiatore del Napoli, Carmando, in campo, quasi lo costringe a buttarsi in terra, insomma per farvela breve viene sostituito, viene portato in ospedale, con quali danni reali non lo sappiamo, perché comunque loro ovviamente sostengono che si sia fatto realmente male, addirittura perdita di riconoscenza, non riconoscenza della gente, insomma stato di shock, altre cose sostengono il contrario. Primo il labiale di Carmando che si vede abbastanza chiaramente nei filmati dell'epoca, dire ad Alemão stai giù, stai giù, non la presenza di sangue, perlomeno che mi ricordi io, o altre cose, o scoriazioni gravi sulla testa di Alemão, tra l'altro era un bel cespone di capelli, non mi ricordo se aveva capelli corti e lunghi però davanti a Napoli, questo non voglio dire diversamente, insomma. Fatto sta che il Napoli fa ricorso, all'epoca veniva per certi episodi assegnato il 3-0 a tavolino e con il pareggio del Milan a Bologna, fatto sta che poi dopo è avvenuto l'aggancio in testa da parte del Napoli sul Milan, aggancio che poi è diventato sorpasso alla penultima giornata perché il Milan perse, a Verona e quant'altro, insomma, poi il Napoli si avviò verso la vincita del suo secondo scudetto e questo scudetto nel 1990, tra l'altro scudetto premondiali del 90 appunto in Italia, fu ricordato, verrà per sempre ricordato come lo scudetto delle 100 lire, c'era una battuta all'epoca che, insomma, diceva che in un calcio da miliardari era stato tutto deciso da una monetina da 100 lire, insomma. Questo è il fatto e non sto dicendo che nessuno ha rubato, eh? Intendiamoci, anche perché io non sono un complottista, nel senso che se dovessi pensare che il calcio, come pensa qualcuno, è tutto un complotto, potrei tranquillamente, anzi, dovrei sicuramente smettere di seguire il calcio. Siccome il calcio mi piace, sono tifoso di Juventino, mi piace ancora di più, perché comunque ringraziando riusciamo quasi sempre a vincere spesso e volentieri, insomma, questa qua, questo episodio, diciamo che è una piccola macchia, piccola, grande macchia sul cammino, sullo scudetto del Napoli, insomma, non fu uno scudetto molto meritato, nel senso, comunque magari probabilmente sarebbero arrivati davanti ugualmente, però ricorrere a questi mezzucci di finte, di quant'altro, insomma, non è da grande squadra, indubbiamente, è una pagina abbastanza triste del calcio italiano. Questo è il primo episodio che ho intenzione di raccontarvi in questa mia serie, che ho intitolato appunto Amarcord, per non dimenticare, ripeto, perché quasi da sempre contro esclusivamente la Juve, ma tanti, tantissimi, e poi nelle prossime puntate vedrete anche perché si dimenticano una memoria un attimino corta, quindi per dire, ora divago un attimino da questo episodio del 1990, tutti a dire Juve en Drangheda, Juve en Drangheda, io ricordo semplicemente Jenny la Carogna, che oltre che essere bordocampista del San Paolo, insomma, si è anche reso protagonista di episodi ben poco chiari, mi ricordo la Coppa Italia e quant'altro, e lui era figlio di un camorrista, insomma, risaputo che era chi era, non è qui, quindi, ecco, quindi prima di dire o di associare cose, ricordatevi anche quello che riguarda la vostra storia. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, spunta la campanellina se vuoi essere aggiornato per ogni volta che uscirà un mio video, iscriviti, condividi, spam, fammi crescere, in questo mio piccolo canale. Ci vediamo, alla prossima, ciao!